È stata inviata ai prefetti una circolare da parte del Ministero dell'Interno che dal 1 di aprile 2002 deve essere adottata, con la quale sono fornite le nuove indicazioni sulle attività di controllo in seguito all'adozione del decreto di fine pandemia. In particolare, con la cessazione dello stato di emergenza, sono entrate in vigore una serie di disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Alla luce della nuova normativa, la circolare invita quindi i prefetti a rimodulare le attività di controllo e i relativi servizi coinvolgendo i comitati provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza. La circolare segnala inoltre che fino al 30 aprile dovrà essere predisposta tra relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno secondo il nuovo modello di rilevazione aggiornato in alcune voci e nei riferimenti normativi. La circolare inoltre ribadisce che l'esigenza che i prefetti mantengano il coordinamento della comunicazione istituzionale al fine di assicurare una corretta e univoca informazione in materia.